Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Riuscite a capire chi è questo bimbo biondo? La curiosità è sempre tanta quando si parla di volti noti della televisione, così come della musica o anche del cinema. Ma com'erano questi personaggi famosi quando erano piccoli? A volte non è semplice capirlo, ma in questo caso qualcosa ci fa intuire di chi si tratta. Ci troviamo di fronte lo scatto di un bambino molto piccolo, con una foto che viene palesemente da un passato molto lontano. Una particolarità però non passa di certo inosservata, un caschetto biondo. Questo bimbo guarda la camera con lo sguardo imbronciato, ma la posa riserva comunque grande tenerezza proprio per l'acconciatura così particolare. Ed è proprio questa particolarità che ancora oggi rappresenta un marchio di fabbrica per questo artista. Stiamo parlando, infatti, di uno degli artisti napoletani più conosciuti in Italia e nel mondo. Esatto, il bimbo in questione è proprio Nino D'Angelo. Difficile non conoscere questo artista senza tempo che ha scritto la storia della musica napoletana ed italiana. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie! Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.